Domenica nerissima per la Banca Tercasteramo, perde e torna ultima da sola vista la concomitante vittoria di Brindisi ad Avellino. Continuano a maramaldeggiare i grandi ex biancorossi, dopo Moss e Hoover è toccato a Poeta e Amoroso intascare i due punti al palascapiano che danno la certezza della partecipazione alle finalezze di Coppa Italia, la Canadian Solar Bologna, che nel quarto di finale è accoppiata con Monte Granaro. Prima la premiazione ai due ex, poi la palla due di una partita molto brutta, condizionata dall'importanza che aveva per entrambe, dal tatticismo e dalle polveri bagnate, specie per Teramo che purtroppo torna alle prestazioni offensive già viste con Siena e Roma, tirando il 26% scarso dal campo, 17 su 66 e incappando in un terzo quarto disastroso con appena 4 punti segnati. A conti fatti sarà la frazione decisiva, in negativo, come è accaduto a Caserta. Vanificati così i 50 rimbalzi arpionati contro i 43 delle Vunere. Una partita che la Tercas in fondo non aveva iniziato male, toccando il più 5 in un primo quarto chiuso avanti 18 a 15. Nel secondo la Virtus sorpassa, grazie ad un antisportivo fischiato a Bosca Ginne e alla difesa di Lardo, che con la zona inizia a sfidare al tiro i Biancorossi, sbarrando la strada alle iniziative dei lunghi. Bologna tocca il più 8, ma viene ripresa dai jumper messi in sequenza da De La Fuente, da 3, e Drake Diner. Al riposo Felsini è avanti 35 a 37 ed è poi 39 pari dopo due minuti di terzo quarto quando si spegne la luce in casa Teramana. La Virtus allora costruisce la vittoria con un parziale di 18 a 0, avvieto da Homan, Winston e Sanichize. La ciliegina è il siluro di Amoroso per il 39 a 57 del trentesimo. Se un merito a Teramo è quello di crederci e aggrapparsi all'orgoglio. Stavolta fermarsi offensivamente Bologna ed è Fletcher a ispirare un controparziale di 13 a 0. La stoccata dalla distanza di Rullo fa esplodere il Palasca che sogna la grande rimonta. Sul più bello però i padroni di casa vengono ridestati dal canestro di Poeta e la tripla di Winston a 1,50 dalla fine. Cinque punticini nell'ultimo periodo bastano a Bologna, senza uno straniero e con tanti giovani in campo, per blindare il successo al Palasca. 14 punti di Winston, 12 di Poeta, 8 di Amoroso, 11 e 10 rimbalzi di Sanichize. Per Teramo doppia cifra di punti per Fletcher e Diner, 13 e di rimbalzi 10 per Della Fuente e Davis. Un punto in 7 minuti per Jesse Young e con Milano all'Orizzonte la salita si rifà ancora più ripida. La dedichiamo a Sabatini perché sappiamo quanto sta investendo per il settore giovanile, quanto ci tiene. Oggi avevamo una squadra che aveva poco più di 20 anni di media e perciò i suoi sforzi negli anni oggi sono stati ripagati. Ancora una volta eravamo rimaneggiati e abbiamo vinto, penso meritatamente, su un campo difficile. Soprattutto con Teramo che è in età crescita, almeno le ultime tre partite le avevamo viste molto bene. La vittoria sicuramente ci porta alle Final 8, questo è il nostro obiettivo, ma soprattutto ci dà anche un po' di sicurezza per il futuro, anche due punti importanti per la classifica. Abbiamo tirato talmente male che poi siamo andati anche a selezionare male. Bologna è stata brava a farci giocare non bene, ma noi abbiamo sbagliato anche tanti tiri aperti. Quindi sappiamo che questa squadra ha bisogno di fare un po' canestro per avere fiducia, trovare energia. Direi che il terzo quarto è stato ovviamente decisivo, ma è inutile che lo dica io, l'avete già visto da soli. Non mi è dispiaciuto il fatto che rispetto ad altre partite in cui abbiamo lasciato in mano ai nostri avversari inerzia e punteggio, abbiamo avuto una bella reazione, questa è una cosa importante. Grazie. 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 Grazie.